Ma che cosa stai facendo qui sopra, Ryuzaki? Ho detto, che cosa ci fai qui sopra, Ryuzaki? Che stai facendo, Ryuzaki? Niente, non sto facendo assolutamente niente di particolare. Ascolto il suono delle campane. Le campane? Già. Oggi però devo dire che fanno davvero un baccano assordante. Io non sento niente. Dici sul serio? Eppure è tutto il giorno che vanno avanti. È impossibile ignorarle. Deve essere una chiesa. Forse c'è un matrimonio, forse... Ma che stai dicendo, Ryuzaki? Smettila con queste sciocchezze e torna dentro. Scusami. Dico sempre cose senza senso. Non starmi a sentire. Hai ragione, Ryuzaki. Tiri sempre fuori un sacco di cose totalmente prive di senso. Se dovessi dar retta a tutto quello che dici, diventerei matto. Ormai ti conosco bene. Sì. Hai proprio ragione, Light. Però... Lo stesso vale anche per te, giusto? Che cosa vuoi dire? Dimmi una cosa. Dal giorno in cui sei nato, hai mai detto solo per una volta la verità? Che stai dicendo, Ryuzaki? Certo, a volte anch'io mento. Del resto, chi a questo mondo non ha mai detto una bugia in vita sua? Però... Non esiste nessuno fatto perfetto. Tutti mentono. Però... Io sono sempre stato attento a non dire bugie che ferissero altre persone. Ecco la mia risposta. Immaginavo che avresti risposto così.